Ciao ragazzi, grazie per ritrovati in questo nuovo video, io sono Fabrizio e quest'oggi voglio aprire questo con voi. Sono andato a ritirarlo oggi e diciamo dopo un po' di peripezie sull'ordine fatto su un certo sito famoso ho preferito andare in un negozio qui vicino e pagarlo un pochettino di più. Parliamo del TH8A che è il cambio della Thrustmaster che penso che molti di voi conoscono, era un accessorio che mi mancava, ne avevo già parlato nei miei precedenti video che avevo l'intenzione appunto di prenderlo e quindi siccome l'ho ritirato oggi qui praticamente insieme a voi lo andiamo a guardare, anche se un nostro caro amico Alex De Luca ne ha parlato ampiamente sul suo canale però insomma... a spaccarlo tutto mettendo degli innesti proprio TAM 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 come faccio io. Siccome a me piace condividere con voi tutte le evoluzioni diciamo di quelle che sono le mie periferiche e di quello che è il mondo della simulazione, mi sono detto quale migliore occasione per farne un altro e condividere con tutti i miei amici che mi seguono questo unboxing e scopriamo insieme questo ennesimo accessorio della Thrustmaster. Per chi mi ponesse la domanda per quanto riguarda la postazione, si ragazzi ho cambiato il sedile perché a 40 anni bisogna fare i conti anche con il fisico, quindi ho rimesso quello che c'è, quell'altro è lì nel caso in cui ci fosse bisogno e quindi torniamo all'argomento principale. Allora abbiamo già subito la prima piastra, questa qui, che in pratica, penso che lo sappiate, dia la possibilità di trasformare questo cambio della Thrustmaster in shifter sequenziale e quindi di conseguenza poter ad esempio fare del regli se non sbaglio. Poi un bel pomello, questo qua mi pare che sia una vite standard e quindi questa testa qui del pomello si può cambiare anche con quelle che vendono nei negozi di accessori e articoli per auto per rendere personalizzabile il proprio cambio. Dopodiché arriviamo alla parte importante, cioè il corpo del cambio che ha comunque il suo certo peso. Andiamolo a toglierlo dalla sua plastica, che non mi interessa per il momento. Quindi un cavo fornito, due cavi forniti scusate, uno per la connessione diretta via USB, Universal Serial Bus. Insomma ragazzi collegate l'USB, collegate il cavo del cambio, è morta lì, oppure il cavo che va direttamente collegato al servo base del vostro T300, T500, insomma tutte quelle servo base che sono compatibili. Allora, prima cosa, pesa ragazzi, non so quanto ma pesa, non voglio dire cavolate non lo so, però ha un suo certo peso. Da quanto dicono è composto dal 90% da metallo e penso che non hanno mentito su questo punto qua perché veramente pesa. Intanto io vado a avvitare qua, magari poi lo personalizzerò. Allora, a me quello che mi interessa sapere sono gli innesti, anche se vi devo dire la verità ragazzi, questo cambio, ma non in questa configurazione qui, ma con questa qua. L'avevo provata su iRacing da Andrea, il nostro amico Andrea Barocchi, e subito avevo fatto buona impressione, però non è che ci ho giocato tantissimo, quindi poi avrò modo io di poterlo testare sulla mia postazione. E quello che mi interessa sapere è questo. Cioè, così, già così, devo dire che ha il suo gran perché questo accessorio qui, gli innesti sono, come posso dire, sono molto precisi, c'è quello stacco come quando si arriva in folle che lo fa rimettere praticamente precisamente in mezzo, mi sembra molto preciso. questo articolo qua è anche personalizzabile da degli accessori stampati in 3D, e magari lo vedremo più in là, perché si può praticamente andare a configurare quanti innesti, perché qui ce ne sono praticamente 8, quindi 7 in marcia, dalla prima alla settima, e la retromarcia. Però c'è anche, per chi ha necessità di avere solo 5 innesti, di poter configurare, quindi andare a cambiare la piastra e mettere dentro un accessorio che fa sì che blocchi appunto a 5 innesti, 4 o 3, insomma, è molto personalizzabile. Allora, io non l'ho ancora provato sulla mia postazione, ma senza ombra di dubbio, in termini di qualità, cioè quello che si vede, quello che si sente, ragazzi, mi sembra che Truss Master abbia fatto visivamente un buon lavoro, perché mi sembra comunque un qualcosa di molto interessante. L'unica cosa da andare a testare è questa piccola morsa, a vedere se effettivamente possa reggere, diciamo, gli innesti, perché comunque lo sappiamo tutti, ragazzi, quando uno gioca con la foca tira abbastanza. Speriamo che sulla postazione si possa adattare come si deve, magari sarà per me occasione di fare un video in cui vi parlerò di questo cambio TH8A. Per quanto riguarda il prezzo, mediamente costa 138 euro. Li verrà? Beh, questo lo vedremo magari più tardi insieme in un altro video. Ragazzi, penso di essere arrivato alla fine, era solo per, diciamo, fare l'unboxing insieme e vedere un attimino le prime impressioni di questo carinissimo prodotto. Noi ci vediamo presto per un prossimo video. Ricordate di lasciare un pollice in su se il video vi è piaciuto, lasciatemi pure un commento qui sotto. Se non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, tanto è gratuito. Attivate la campanellina qui sotto per essere notificati ogni qualvolta. Carico un video. Noi ci vediamo presto da Fabrizio. È tutto. Ciao! Ciao!